l'inter di approvazione del PUA parte da lontano noi già diciamo due anni fa abbiamo fatto il primo atto di adozione del PUA in giunta che poi è stato trasferito ovviamente alla regione è andato in VAS ed è ritornato diciamo con parere favorevole per cui poi abbiamo fatto l'approvazione definitiva prima dell'estate. L'atto che abbiamo fatto venerdì mattina insieme alla giunta è un atto di approvazione di quelle che si definiscono le linee guida diciamo cerco di semplificare il PUA è uno strumento di pianificazione territoriale che serve a definire diciamo come il comune intende gestire gli spazi che il demanio gli affida quindi tutto ciò che ricade all'interno dell'area demaniale e quindi la nostra spiaggia semplicemente. Ci sono delle regole che vengono date a livello regionale perché c'è un PUA regionale che definisce diciamo i principi di massima ne cito solo uno per come esempio cioè che il 50 per cento della spiaggia deve essere lasciata libera alla libera fruizione di tutti i cittadini quindi non deve essere data in concessione a nessuno e poi ci sono tutta una serie di altri elementi che quando un comune redige il proprio PUA deve diciamo tenere in considerazione quindi noi abbiamo appunto sviluppato questo progetto di utilizzo dei nostri ranili rispettando tutte queste norme abbiamo molto di più del 50 per cento dedicato alle spiagge libere abbiamo confermato diciamo le concessioni attualmente in essere per quanto riguarda gli stabilimenti balneari quindi non abbiamo creato nuovi stabilimenti e abbiamo lasciato la nostra spiaggia diciamo più naturale possibile. Grande rivoluzione nasce dal fatto che grazie alla realizzazione del ponte che andremo a realizzare sullo Zambra con un finanziamento regionale potremo fruire finalmente di un altro chilometro e mezzo di spiaggia sulla quale abbiamo pensato di far ricadere spiagge libere con servizi quindi sono affidate a dei gestori non prevedono il preposizionamento non prevedono la realizzazione di stabilimenti ma sono fruibili con dei servizi che verranno messi a disposizione di tutti i bagnanti. Alcune di queste spiagge sono dedicate ad attività specifiche per esempio è prevista una bow beach per i nostri amici animali è prevista una spiaggia libera con servizi dedicate a tutti gli amanti degli sport acquatici, kite surf, surf, sap quindi servizi che andranno ad essere implementati sulla nostra spiaggia. Adesso noi che abbiamo fatto si sa è dibattito diciamo quotidiano la questione della Volkestein è di che fine faranno appunto i nostri stabilimenti, devono andare a gara, non devono andare a gara, chi ha gli stabilimenti da tanti anni e ha fatto investimenti, deve avere dei risarcimenti, è una questione che viene dibattuta a livello nazionale ma né diciamo lo Stato né la Regione sta legiferando in questo senso quindi i comuni hanno una specie di spada di Damocle sulla testa perché hanno l'obbligo di andare a gara perché quello è un bene di tutti e quindi non può essere gestito sempre dalla stessa diciamo dallo stesso soggetto per anni senza una gara di evidenza pubblica, questo ci dice l'Europa e allo stesso tempo devi cercare anche di tutelare chi ha fatto l'imprenditore, ha investito magari proprie risorse in un'attività e si troverebbe magari perché non ha dei requisiti o perché da un giorno all'altro diciamo metti delle regole che lui non può rispettare, si troverebbe dopo anni di attività ed investimenti senza nulla quindi che può fare? Noi ci siamo dati uno strumento, uno strumento attuativo del PUA quindi abbiamo detto come fare queste gare ovviamente basandoci sulle sulle regole europee però andando un po' a cercare di addentrarci un po' nelle per esempio noi abbiamo previsto che qualora investisce uno stabilimento va a gara e perde ha diritto ad avere un risarcimento perché è una specie di buon'uscita diciamo no? Quindi un indennizzo per quello che ha realizzato in questi anni sulla sulla spiaggia? Come un passaggio di attività no? Quando tu lasci un'attività a un altro e ricevi un indennizzo questo ovviamente per tutte quelle strutture che sono legittime perché si è realizzato delle strutture abusive o che non sono in regola ovviamente non è che potrà essere risarcito però se la struttura è legittima e condonata non ha problemi è giusto che venga risarcito diciamo degli investimenti che ha fatto e poi abbiamo messo una cosa molto interessante che è un piano economico cioè per partecipare alla gara tu non solo devi presentare un progetto che dica non so come vuoi migliorare magari lo stabilimento quali servizi vuoi dare e insomma creare un progetto che possa essere appetibile ma devi presentare anche un piano economico che dia la sostenibilità di questo progetto cioè io ti do la concessione per sei anni ti do la concessione per dieci anni tu fai degli investimenti fai un piano di ammortamento quindi che ci sia un'effettiva sostenibilità perché se no diciamo è facile che magari ecco possano andare a rischio no queste queste concessioni perché magari le affidi a qualcuno che poi non ha una sostenibilità economica e c'è il rischio che non sia sostenibile quel progetto quindi noi ci siamo dotati di uno strumento che possa essere esecutivo del PUA. Ma quando si dovrebbe andare a gara sindaco? Allora questo è diciamo che è una procedura ovviamente come potrete immaginare complessa perché c'è da da redigere le gare da pubblicarle sono gare europee perché parliamo di tanti milioni di euro quindi è evidente che non sarà possibile per quest'estate aver concluso l'iter però noi il primo il primo possibile vorremmo iniziare con questa procedura. La cosa interessante credo che siamo la prima città in Italia ad essersi dotata di questo strumento e so che insomma altre altre città si stanno muovendo per fare altrettanto potremmo essere un po città pilota di questo di questa di queste gare.